La nuova galassia Divertiti anche tu ad esplorare l'universo di Margherita Huck A quale università si scrisse inizialmente Margherita? Mettiti alla prova con le domande sulla grande scienziata Brava! Sì Gira la ruota e sfreccia verso il traguardo Ma stai attento agli imprevisti Il buco nero è dietro l'angolo No, il buco nero no Viva Margo, un gioco galattico Grazie.